L'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa considerata la forma più comune di demenza senile dopo i 65 anni. Ha un decorso progressivo e in alcuni casi si manifesta in forma precoce, intorno ai 50 anni. L'Alzheimer causa un deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive principali, quali memoria, attenzione, ragionamento e linguaggio, compromettendo in modo progressivo l'autonomia delle persone che ne sono affette. Si valuta che l'Alzheimer colpisca circa il 5% della popolazione al di sopra dei 65 anni e circa il 25% degli anziani con più di 85 anni. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top prodotto da Little Press il neurologo Stefano Ian. Come accorgersene, quali sono i primi sintomi? Come tu ti accorgi avere in casa malattia di Alzheimer? Il primo disturbo ovviamente è un disturbo molto specifico quale il calo della memoria recente, cioè sono persone che ricordano magari quello che è successo 20-30 anni fa ma fanno fatica a ricordare quello che è successo 5 minuti fa o poco fa. È però un disturbo che di per sé è specifico perché anche l'invecchiamento fisiologico in qualche modo comporta questo tipo di problema. Quindi diciamo che un disturbo della memoria recente, una difficoltà di accesso al lessico, quindi fanno fatica a venirmi le parole, diventano sospette solo e soltanto se sono ingravescenti, se cominciano a interferire con la mia qualità della giornata, cioè non riesco più a fare le cose che facevo prima perché non riesco neanche a parlare come vorrei. Però Stefano, anche a noi che siamo grandi celli succede che ogni tanto non ti viene la parola. È una manifestazione abbastanza comune in tutte le persone grandi celle come noi. Vero, assolutamente, ed è la ragione per cui ti dicevo, non è il sintomo in sé ma quanto questo sintomo impatta sulla qualità della vita. Il paziente si rende conto che c'è qualcosa di strano che sta avvenendo? Sì, e questo si correla anche al grado di cultura, cioè più la persona è colta, più la persona è intelligente, più si rende conto che qualcosa sta cambiando e quindi tutto sommato oggi con le conoscenze che ci sono accede direttamente o cerca di accedere direttamente allo specialista.